una chiesa quelle che fa le scale così è la stessa è il percorso ma dove continua? di qua uscite fuori bella bellissimi questi percorsi ecco qua ti posso far vedere un attimo la via crucia? si ah no no guarda qua guardi il tuo togliete qui questa è una cosa a prezio la signora dove sta? e fa ancora guarda deve riprendere signora come si chiama? come ti chiama? Maria Saveria Russo ma guarda lì è una lei fa queste si sono sentite con le ricamatrici dell'Abruzzo bello questa è super ecco qua ah sei vestita di bianco guardalo un attimo la mamma mi ha ammassata qua perché pioviva quindi se ti piace bello ma l'hanno paragonata a mura quella è mamma poi c'è una belezione questa è la tua via crucis si la mia via crucis che è stata in Spagna è stata in Francia è stata in Germania lì questo qui guarda l'hanno paragonata a mura e la Paola? come è venuta la Paola? no sta venendo ecco qua bella bella è qua guarda qua questa è ora è stata restaurata Michele ah bella è fresca vedi grido di mondo e questa è l'ultima sarebbe la resurrezione ok questa è la prima che io sono partita dall'orto dell'oggetto sei mai qui continua pure no è finito bellissima ecco grazie